Siamo qui all'hotel Royal Continental per seguire una conferenza stampa che si parla di sviluppo e occupazione. Finalmente c'è qualcuno che tocca il tema dell'occupazione in Campania, una campania martoriata e abbandonata a se stessa. Vediamo le interviste. Lei ha anche indicato come recuperare questi 20.000 posti e non solo, ha toccato il tema dei fondi europei, ha toccato le difficoltà che affrontano gli imprenditori, ma soprattutto i giovani. Abbiamo 600.000 giovani disoccupati nella regione Campania, il tasso più alto d'Italia di disoccupazione giovanile. Il centro del mio programma è il lavoro, creare lavoro per i nostri giovani. Ho fatto una proposta che prevede un intervento a breve, quindi nell'arco di pochi mesi, massimo un anno, per creare 20.000 posti di lavoro ed alcune proposte di medio-lungo periodo che servono a mettere in movimento la Campania e trasformare questa regione in un motore di sviluppo. Attualmente la Campania è una parude burocratica, un chiacchierificio, produciamo parole e carte bollate, ma niente di più. 20.000 posti di lavoro. Ho dimostrato, vi ho indicato il modo in cui realizzarli, anche senza investimenti pubblici, basta solo sburocratizzare. Potremmo creare migliaia di posti di lavoro, attivando la rete delle farmacie, creando le farmacie e servizi, realizzando 200 asili nido in più, attivando il fascicolo del fabbricato per i giovani tecnici, realizzando bed and breakfast. Abbiamo mille campi nei quali possiamo creare attività lavorativa, ripeto, solo con la sburocratizzazione. Poi proponiamo una serie di incentivi per gli imprenditori, proponiamo la cancellazione dell'addizionale IRAP, un raddoppio in pratica della legge Severino, cioè alla Severino aggiungiamo anche un incentivo a fondo perduto, sotto i 200.000 euro per il rinnovo dei macchinari e proponiamo anche il raddoppio dell'incentivo statale di 8.000 euro per ogni nuovo assunto. Poi rimane il capitolo di fondo, quello dell'uso delle risorse europee, ma ne parleremo il giorno 30, perché se riuscissimo ad investire bene 5 miliardi di euro ai fondi europei, questo porterebbe a realizzare 50.000 posti di lavoro. Ma oggi abbiamo voluto presentare una proposta per realizzare da subito 20.000 posti di lavoro, in maniera concreta, realistica, gli abbiamo indicato come e dove. Presidente, anche la legge 150, quindi noi giornalisti aspettiamo questa legge da anni, quindi ci sono state dette tante cose ma non si è fatto mai niente. Io credo che dobbiamo lavorare anche sulle ipotesi minime di occupazione. La legge 150 obbliga gli enti pubblici a dotarsi di uffici per le relazioni con il pubblico e per le informazioni, è una legge che non viene rispettata. Credo che possiamo dare una possibilità di lavoro a non meno di 150 giornalisti pubblicisti che a volte vivono in una condizione di grande precarietà, una cosa semplicemente civile che possiamo attivare insieme con altre grandi opportunità di lavoro che possiamo realizzare. Lei ha toccato anche il settore della cultura, ha detto che in questi 20.000 posti lei ha parlato nello specifico di siti archeologici, però alcuni giorni fa ha pubblicato un posto che l'arrivo proprio al museo di Totò, che cosa ha da dire? Museo? Il museo di Totò a Colanzio e lo Spazio. Sì. Che cosa ha da dire? Devo dire innanzitutto che dovremmo avere grande affetto e amore per Totò. Mi sono impegnato a completare per il cinquantenario della morte il museo di Totò. Quindi realizziamo questo museo per l'anniversario e la morte di Totò e soprattutto pensiamo di dare vita a un albo regionale delle guide degli operatori turistici che non c'è. Noi rischiamo di venire a lavorare nei siti archeologici e artistici giovani di altre parti d'Europa e di non mettere al lavoro ragazze e ragazzi del nostro territorio. È uno dei tanti interventi che si possono fare. L'economia termale, abbiamo le terme chiuse a Castellammare, a Bacoli, Pozzuoli abbiamo risorse termali dappertutto. Basta anche qui una legge per il termalismo e può esplodere anche l'economia del termalismo. Bisogna svegliarsi ovviamente se la regione rimane un chiacchierificio è chiaro che lavoro, non ne vedremo. Presidente, il turismo è infernale, quindi è molto importante. Turismo invernale, turismo religioso, turismo culturale, turismo enogastronomico, turismo legato all'economia del mare e alla balneazione. Abbiamo tanti capitoli da attivare nell'ambito dell'idea generale che io voglio realizzare, fare della Campania il più grande distretto turistico del mondo. perché con i beni ambientali, storico-artistici, enogastronomici, religiosi che abbiamo nel nostro territorio possiamo puntare a questo obiettivo. Ecco, Anna Rea, 20.000 posti di lavoro e non solo fondi comunitari, ecco l'edilizia e quant'altro. Ecco, lei che ovviamente segue molto da vicino queste drammatiche vicende. Cosa possiamo dire? Un commento? Mi sembra da quello che abbiamo ascoltato, aspetto ovviamente di vedere sul sito il piano più dettagliato, una proposta realistica. Non mi sembra semplice propaganda, soprattutto perché parte da risorse che già sono stanziate, da blocchi burocratici che ci sono stati o a concorsi o a domande già in atto, penso a quello dei condoni, piuttosto che al bando per la sanità, per la farmacia, per posti letto e quant'altro. Ci sono anche alcuni segnali interessanti, trovo interessanti, che vanno anche a dare una risposta e a valorizzare realtà significative che la Campania ha, come quello del termalismo, oppure quello di diffondere sul territorio campano l'esperienza dei bed and breakfast, che è un modo per valorizzare le attività che noi abbiamo, per valorizzare e attrarre il turismo e nello stesso momento offrire ai giovani delle opportunità. Insomma, siamo non entusiastici, ma comunque molto interessati a questo progetto che è stato oggi presentato, perché comunque siamo di fronte a un impegno concreto, un impegno visibile, un impegno su cui anche le forze sociali possono giocare un ruolo e controllare di persona in tempi anche ben definiti, anche molto stretti, per dare una svolta alla politica occupazionale e nello stesso momento a valorizzare i nostri territori sia settoriali che dal punto di vista urbanistico. Cioè una città è una regione stupenda, straordinaria, certo merita anche altre azioni, altre politiche, politiche di riorganizzazione delle asi, di riorganizzazione del sistema degli incentivi o comunque di una sburocratizzazione che renda attrattivo a questo territorio. E mi è piaciuto molto uno dei punti che lui ha sottolineato, pensando alle vicende industriali, ai drammi che stiamo vivendo in queste ore, non si tratta solo di mettere i paletti che alcune operazioni delle multinazionali non sono da farsi, come per l'appunto non va chiuso assolutamente lo stabilimento di Carinaro, però è anche una modalità di dire la regione da grande istituzione autorevole del nostro paese diventa una parte attiva anche nella trattativa e nella vertenza. Insomma, questo esempio lo potremmo riportare a Finmeccanica, ai centri di ricerca, a tutto ciò che questa regione ancora ha dopo le tante aziende purtroppo che abbiamo perso. Ecco, finalmente delle risposte per quanto riguarda il discorso dell'occupazione e dello sviluppo in Campania. Ecco, finalmente incominciamo a vedere un parlume di speranza, di luce per questa regione abbandonata a se stessa. Un cordiale arrivederci da Mario Orlando.